Oltre ai settori del commercio e dell'accoglienza, anche il settore dello spettacolo e della cultura è in grande sofferenza per le disposizioni governative che impongono la chiusura di teatri e cinema. Un comparto, quello dello spettacolo, che vive di introiti legati alle rappresentazioni e ai cartelloni delle direzioni artistiche e anche di contributi statali. Amata ha dovuto cancellare oltre 180 eventi programmati in questo periodo, dove c'è il clou delle rappresentazioni e della stagione, se fosse successo a giugno tutto quello che stiamo vivendo, sarebbero stati meno della metà. Stiamo lavorando, devo dire, lacrimente non solo per portare avanti la normale programmazione per le cose estive, ma anche a riposizionare gli spettacoli e ci stiamo riuscendo in maniera abbastanza precisa perché c'è grande voglia di teatro, ce la comunicano gli spettatori innanzitutto, gli artisti hanno voglia di non perdere appunto questa occasione perché davvero è un evento mai accaduto, credo che l'ultima si può paragonare solo alla seconda guerra mondiale, l'unico momento in cui c'è stata una serrata così lunga, quindi sicuramente è nella tempesta ma con la voglia di ripartire. Anche Fano, rientrando nel circuito, ha dunque dovuto far slittare tutta la programmazione in corso. Fino al 3 aprile vengono sospesi tutti gli spettacoli, questo non vuol dire che noi non continuiamo a lavorare e organizzare, anzi i due spettacoli di prosa verranno riproposti fine aprile e a maggio, sempre compatibilmente ovviamente con tutto quello che deciderà il Consiglio dei Ministri, il botteghino è aperto e speriamo anzi che i cittadini ci siano sempre più vicino proprio per far capire che la cultura comunque è vita, questo per noi è importante. Per quanto riguarda l'opera abbiamo dei tempi italiani e algeri, avrà dei tempi di ripresa più lunghi perché mettere insieme cantanti e registi non è proprio semplice, ma ecco non ci fermiamo. A Pesaro invece l'orchestra sinfonica Rossini aveva concentrato tutta la sua attività concertuale proprio in questo periodo dell'anno in occasione delle celebrazioni rossiniane e ora invece si ritrova con il rischio del salto degli stipendi dei maestri d'orchestra. Questa chiusura ha come conseguenza un dato oggettivo, la perdita degli stipendi dei professori d'orchestra, quindi ad oggi non c'è alcuna attività che possiamo recuperare in questo periodo e quindi si presenta questo problema. Noi come orchestra cercheremo di ragionare su un sussidio a fine marzo per comunque andare incontro alle esigenze delle famiglie dei nostri professori che ricordo sono il patrimonio di questo territorio, Pesaro e Fano. Speriamo che oltre alle rivendicazioni che faremo in modo collettivo, perché è ovvio che questa crisi non colpirà solo noi ma l'intero settore, che queste due amministrazioni possano riunirsi e fare un piccolo magari progetto specifico proprio a favore dei nostri professori d'orchestra.